Ciao a tutti, sono sempre io, Alessandro, l'amministratore del canale Commedia all'Italiana. Stamattina è finalmente uscito il trailer ufficiale di Lockdown all'Italiana, il primo film da regista di Enrico Vanzina in uscita nelle sale italiane il 15 ottobre. Finalmente per me, per noi, magari pochi, che lo andremo a vedere, che lo sosteneremo e che già da adesso siamo entusiasti comunque a prescindere di questa idea, e finalmente anche per coloro che non vedevano l'ora di poterlo stroncare per bene e che adesso potranno cominciare ad attaccarsi non solo a quello a cui dovrebbero attaccarsi ma anche al fatto che dal trailer si capisce, no? Questa è la loro frase, quindi comunque si può cominciare a criticare, offendere e distruggere per bene. Ho pubblicato già un video in cui vi ho parlato in generale dell'idea del film, di quanto ne fossi entusiasta e ovviamente ho in qualche modo cercato di rispondere alle innumerevoli critiche che sono arrivate fin dalla prima volta in cui abbiamo cominciato a sentire di questo progetto banziniano. Adesso però bisogna analizzare il trailer e basarci per quanto possibile su quello che ci viene fornito prima di sapere effettivamente come sarà il film. È un trailer che mi ha convinto in parte, mi ha convinto per quanto riguarda il cast, mi ha convinto per quanto riguarda la sceneggiatura, quindi per quanto riguarda tutto ciò che ero già sicuro che mi avrebbe convinto. Poi al cinema potrò confermare questa tesi o meno. Un bel cast, Ezio Greggio, Erichie Memphis, Martina Stella, Paola Minaccioni, Riccardo Rossi, ho visto anche, so che ci saranno anche i Biagiudizio e Maurizio Mattioli. E quindi un cast che mi soddisfa a prescindere. Una sceneggiatura che sono sicuro sia soddisfacente. Ovviamente affrontiamo il tema del lockdown, non del coronavirus, della quarantena. E quindi si incrociano le avventure di queste due famiglie italiane durante la quarantena, durante il lockdown, tra tradimenti e ovviamente istinto di sopravvivenza che viene meno nel momento in cui si è obbligati a stare chiusi in casa insieme, magari coppie che vivono insieme da tanto tempo o che hanno dei segreti un po' troppo forti da tenere nascosti e che quindi poi alla fine vengono a galla. Quindi insomma la trama mi piace perché credo che sia importante cercare di analizzare anche con un occhio un po' ironico e leggero un periodo disastroso come quello che abbiamo vissuto e che comunque stiamo ancora vivendo nonostante al momento non ci sia più un vero e proprio lockdown all'italiana. Poi il cast, insomma, è un cast che amo assolutamente. Sono molto contento, come detto, di rivedere Ezio Greggio sul grande schermo dopo ben nove anni e sono ovviamente entusiasta del fatto che Enrico Vanzina, straordinario sceneggiatore, grandissimo uomo di cultura, scrittore, eccetera, abbia deciso comunque di continuare la sua carriera cinematografica nonostante la scomparsa prematura del grandissimo Carlo, suo fratello con il quale ha lavorato per tantissimi anni. Ciò che non mi ha convinto e sul quale aspetto avevo qualche titubanza è l'aspetto più estetico, quindi la regia e la fotografia. È una fotografia scadente, si capisce subito dal trailer e anche la regia mi sembra molto molto monotona. Per quanto riguarda la regia aspetto rivedere il film. Per quanto riguarda la fotografia è lampante, purtroppo. Ho letto critiche molto pesanti anche sulla fotografia e purtroppo devo confermarla seppur ovviamente io cerchi di analizzare tutto questo in maniera differente, sempre nel rispetto di tutti, che sia un film di Vanzina o di qualsiasi altro regista. Bisogna rispettare, questo voi non lo sapete fare voi che scrivete questi commenti offensivi. Purtroppo la fotografia mi sembra molto 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 scadente e ho molta paura anche per la regia che ripeto mi sembra molto monotona anche perché si tratta dell'esordio per Enrico Vanzina e quindi non è mai facile esordire soprattutto quando non si è più, diciamo, di primo pelo non si è più giovanissimi. In ogni caso, ragazzi, io andrò al cinema a vedere questo film dal 15 ottobre nelle sale italiane invito voi a farlo perché è un film italiano perché bisogna sostenere il cinema italiano perché bisogna sostenere la nostra commedia e perché è importante, ripeto, ragazzi saper ironizzare, saper vedere con leggerezza periodi anche difficili come quello che appunto stiamo vivendo. Fatemi sapere nei commenti se ci riuscite nel rispetto di tutti cosa ne pensate cosa siete riusciti a capire da questo trailer ovviamente, ripeto, ragazzi non si può criticare un film prima che esca in sala ma adesso sicuramente possiamo farci una piccola idea quindi convinto per quanto riguarda tutto ciò che ero sicuro e mi avrebbe convinto poi al cinema vedremo ovvero il cast e il tema trattato deluso da due aspetti che già mi preoccupavano molto come la regia e la fotografia che trovo almeno per quanto posso capire finora molto molto scadenti del 15 ottobre lockdown all'italiana al cinema mi raccomando ragazzi ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano ciao a tutti ciao a tutti